Grazie, grazie, grazie Grazie Vado in ordine alfabetico, la curva A, la curva B, i distinti, la musilico, la misica, i bambini delle scuole, un abbraccio ai disabili che vengono in questo stato Grazie 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 Seguirci qui allo stadio è che da casa sono numerosissimi, quasi 5 milioni in Italia, altri 7 milioni in Italia Noi vogliamo vincere, 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 noi vogliamo vinc di essere proiettati verso il futuro, di non condividere un certo vicerume che ancora esiste in molte altre parti del pianeta. Sapete un'altra cosa? Voi sapete che il Bayern Monaco è una squadra molto forte. Bene, loro hanno studiato i tifosi del Napoli che vengono allo personaggio. Voi siete un esempio per il calcio più moderno. E' un po' in ruins! Meritiamo di più! 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 e' ci si che farà al San Paolo la sua vera ultima partita.